Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video Ed è un po' che non ci vediamo Sono qui oggi per acquistare la nuova espansione Comprerò un bel po' di pacchetti Vediamo un po' Allora, penso che almeno 10 pacchetti Così per iniziare li compro Vedo di aprirli velocemente Ho anche altri pacchetti a parte questi da aprire Vediamo un po', ovviamente questi qua mi interessano un po' di più Perché sono della nuova espansione Vediamo un po' cosa troveremo Andiamo quindi nella colazione Sono abbastanza euforico Ragazzi, sono veramente euforico Allora, apro prima i baule Così Per partire tanto è uno solo Bene, carta rara 10 di monete, vai Ok, un embor Non sembra male questo Non mi soffermo tanto perché ragazzi Ho veramente tanto da aprire Andiamo, apriamo quest'altro Legami inossidabili È una delle migliori espansioni Con The Den Se non sbaglio Ci dovrebbe essere Ho aperto tantissimi di questi qua Di legami inossidabili Infatti ho trovato tantissimi tag team Vediamo un po' Niente Vabbè, non mi può andare sempre bene Addirittura una carta nuova Eganz Bellissimo quel disegno di Eganz Ok Adesso spada e scudo Vai Poi ragazzi Quelle della nostra spanzia Non me le tengo per ultimo Sto andando abbastanza velocemente Fortunatamente Vediamo un po' Cosa trovo L'amo normale Di questo Vabbè Andiamo Nulla Se non sbaglio Ho comprato anche il deck Vabbè comunque ce li ha Di interior Ok Finito Ce n'è ancora un altro Vai Andiamo un po' Non mi posso lamentare Di queste espansioni spade e scudo Perché ho trovato abbastanza Cioè non mi è andata davvero male Ah il Fortunuova Ce l'avevo già E niente L'Apras Questo L'Apras Niente di che Non è neanche utilizzato Niente È andata male finora Se non sbaglio C'era anche Ecco qui si Mi ricordavo Vediamo un po' Metto un attimo qua Un attimo a destra Vediamo un po' Cosa esce qui Qui ci sarebbe buono Un bel giraci Che ancora non ho Vai Niente Perché alla fine Il giraci Non lo uso In esteso Non è così importante Come in standard Ok perfetto Penso di aver Aperto tutto Devo aprire Solo i nuovi 10 pacchetti Vado Apri Ok Questi 10 pacchetti Vediamo in 2 minuti Alla fine Abbastanza velocemente Vediamo cosa trovo qui Non fa niente Se non vedete Magari La primissima carta Vabbè Tanto spesso Le energie Sono carte Abbastanza inutili Vai Oh primissima Oh primissima carta Inutile Continuo Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Ok Ok Oh questo è buono Questo è molto buono Ginepro Si utilizza Vai Niente Andiamo ancora avanti Ragazzi Iniziano ad essere Parecchi pacchetti E non aver trovato nulla Fosse stati in real Questi Avrebbero stato Un bel po' Di soldi Spesi Per il nulla Cosmico Non sempre può andare bene A volte ho trovato ADP Negli altri pacchetti Quindi ho trovato Belle carte Allora Questa carta L'ho trovata interessante Questa qui Fumagena Poi ragazzi Potete fermarvi E leggerle Kangaskhan Se c'è anche Nei tematici Nel tematico Dove c'è Suicun Va bene Andiamo avanti Però Non è una buona carta Da trovare Nei pacchetti Non è una buona carta Sto trovando nulla Un bel crobat Dai Niente Questo non è malissimo Questo pokemon Però Non ci siamo Non ci siamo Nessuna V Non ho mai fatto Un pack Così Sfortunato Ecco Finalmente Almeno una carta buona Su Almeno il distintivo Turbo Ti simile al distintivo Acqua Come nome Vai Talonflim Mamma mia Niente Proprio Continuo Stanno a finire Stanno a finire Ma mi sa che ne compro altri Perché non può essere andato così male Cioè Assurdo O non è la mia giornata E forse è meglio che non ne compro Un altro Ginepro Niente Mamma mia Sto iniziando a sudare Mamma mia Che brutto Nulla di nulla Almeno l'energia a fuoco Quella Non mi dispiace Vai Un altro Un altro Quando Quelli I pokemon rari Non buoni Quelli sono Momini sono Cipolli doppioni Assurdo Dai forza Niente Posso continuare Dai 10 pacchi 10 pacchi Ragazzi Sono 2000 2000 coin Anche Ah sui con Che non mi serve Non è buono Guantoni Debolezza Perché sui con Anche lui c'è Nei tech tematici Devo andare al negozio Devo andare al negozio Si Ed ecco Come bruciarsi 2000 coin C'è l'equivalente Di 5 No 2000 coin Sono 4 Mazzi tematici Eh ragazzi Purtroppo così Facciamo un'altra manciata Prendiamo un'altra 10 Tanto ragazzi Avevo messo da parte Tutti questi soldi Apposto Apposto Per questa espansione Ma mai Mi sarei aspettato Di avere Tutta questa sfortuna Ho aperto Un 15 pacchi Non ho trovato nulla Nemmeno C'è Nulla proprio Ecco perché I pacchi Raga Non vanno mai aperti Io apro questi qua Ovviamente Perché sono Non scambiabili Allora Cosa posso fare Almeno mi diverto Un po' pure A fare gli spacchettamenti Cioè Puoi divertirsi È una parola grossa Visto come sta andando Vai Si È lui Mi vedete affrando Perché ragazzi Come si fa Ad aprire 15 pacchetti Non trovare niente Che poi vabbè 14 Niente Ma almeno ho trovato lui Kabu Non è buono Devi giocare con un pokemon Solo per fare Rimisc E pesca 8 Però comunque in esteso C'è l'acromio Che è sempre meglio L'apicoltore Ah forse questo è un pack Fortunato Vediamo La prima La seconda La seconda E dai Cioè non è malissimo Questo luge Però Uffa Dove stanno i pokemon V C'è un'espansione Plena di pokemon V Che cazzo Cioè Niente Niente È assurdo Chi è questo Volcarona No È assurdo Non ho mai fatto Un pack opening Così sfortunato Dai Riprendiamoci alla fine Oh Finalmente Vabbè Questo qua Può essere buono Questo hondum Toglie 200 Alla fine Se riesce a fare Delle manovre Riesce a togliere 200 Potrebbe essere interessante Questo hondum Andiamo avanti Un hondum Eh Sono tanti pacchetti Alla fine un hondum Non è buono Cioè Finora Vediamo un po' Questo sta sempre Nel deck tematici Ma Cooperagia Non mi dispiace Sinceramente Cooperagia Non mi dispiace Può essere un bel pokemon Andiamo avanti Anche a livello Di altre carte Le carte normali Non ho trovato Chissà chi Ecco qua Il distintivo Almeno non ho trovato un altro Dovrebbe essere a 2 Ma No Non male Questi sono buoni Quello Pornete Magica Non mi piace Quel corbinetto Cioè Sì Magari So Pokemon Forte Però Voglio Trovare Di più Voglio Trovare Di più Voglio Trovare Il V Voglio Trovare Crobat Dai Forza Oh Bella Questa Energia Questa Energia Ti permette Di Fare 20 Danni In più Però Devi Essere In colore Questa Bella Questa carta Vai Niente Mettiamo avanti Ci rendiamo conto Ci rendiamo conto Quanto sta andando male È assurdo Ah questa è pure una carta Che secondo me è molto forte Che disturba Non poco Cioè Confonde entrambi i Pokemon Ma tu poi uno Lo ritiri E quindi Andiamo avanti Ah sì Tran Ok Ok Vediamo cosa c'è Un altro No Non ci credo Non ci credo Sto iniziando A rendere Sto dare freddo Raga Avete visto Quanti soldi Avevo Proprio buttati Al vento Oh Desi Dwye Questo è buono Questo è buono Però alla fine Cioè Non penso ci farò il deck Un altro Corbinet No vabbè Non ci posso credere Che brutto Che brutto Il bosco Questo qua Non ricordo se c'erano già Del lantino Vai 130 Ma dai Ma dai ragazzi Ma come Ma come si fa Ma come si fa Volevo trovare qualcosa Per fare qualche deck Non ho trovato niente Cosa posso fare Cosa posso fare Devo Cioè Ha speso Forse è meglio Che mi sto fermo Cioè Non ho trovato niente E non lo so Se questo gioco È così Buggato Dai Compriamo In altri Io Li compro Però non so Se altri 10 Vabbè dai Sì Compriamo In altri 10 Di scatto Continuo Ragazzi Non troverò nulla Mi dovrò comprare Cosa devo fare Soldi guadagnati Col sudore Spesi così E non trovo niente Cosa ci posso fare Vediamo un po' Ecco qua Vai apri Assurdo È assurdo Dai forse Gli ultimi 10 Tanto il video Non sta scendo lungo Fortunatamente Dai su Dammi qualcosa di buono Almeno una V È inutile Ovviamente Cioè È veramente inutile Però Almeno Il piacere di avere una V Continuo Butt fry È inutile Ovviamente È tra le V Forse è una delle più scarse Però almeno Più sembra una V Diamanti Niente Ancora niente Poi ho anche Le restanti carti importanti Di questo Di questa espansione Il mantello Mi mancava Più o meno Penso di averle trovate Quasi tutte Niente Beh si è capito Allora Dopo questi 10 Non so Se acquisterò Ancora Altri pacchetti L'agricoltore Ancora non lo trovavo Perché Davvero Mi sa che oggi La mia giornata Sfortunata Quindi Forse mi conviene Fermarmi qui Oh Ne ho quasi 4 Di distintivi Vai No dai Ma si può mettere Nello stesso pacchetto Pinciuccino Dai Che pure È proprio un po' Come scandaloso Andiamo avanti Caspita Quali cose Si stanno mettendo Veramente male Cioè Allora Io ho fatto La stessa cosa Anche quando Ucci l'espansione Di Mew Mewtwo Tag team Perché lo volevo Trovare a tutti i costi Ragazzi Mi lamentai Perché mi uscivano Un sacco di Trangix Però Non mi è mai Andata male Come oggi Cioè Alla fine Lo trovai Con il Mew Mewtwo Poi nei pacchetti Comunque Trovai qualcosa Oh Grande Finalmente Finalmente qualcosa Allora È vero Che aprendo Aprendo Qualcosa trovo Ecco qua Vigavolt Salutato Vigavolt Questo vale tantissimo Questo Vigavolt Ok Andiamo È una delle carte Più costose Assolutamente Quindi sono piaci Di averlo trovato Queste sono più importanti Di questi pokemon Qua rispetto A un crobat Anche se Alla fine Crobat è importante In standard Per giocare standard Però in esteso Con gli scemi Di fare la stessa cosa Poi se ci hanno meno vita Niente Allora Mi sono un po' Gasato Per Per aver trovato Quel pokemon Quindi Quasi quasi Apro Altri pacchetti Facciamo Facciamo Altre dieci Vai Mi sto spendendo Tutto Spero che la registrazione Stia andando Perché veramente Sto spendendo tutto Anche l'anima Vado Collezione Alla fine Con questi soldi qua Cosa ci devo fare Da qui Ai prossimi 3-4 mesi Adesso non so bene Quando uscirà la prossima Se non sbaglio Non so se è proprio Quella di febbraio Oppure Se ce ne sta una a novembre Forse c'è una a novembre Però comunque Deve passare tanto tempo Per la prossima espansione Quindi almeno Questi soldi Sfrutto adesso così Alla fine Nelle altre espansioni Cosa devo trovare Deden Già ce l'ho Quindi Aprire l'espansione Solo per Deden E poi neanche trovarlo Non mi garba Come cosa Mimikyu No Mimikyu Danno sempre quelle abilità Particolari Sto trovando anche più Di quelle energie I mantelli Sono carte Almeno un po' utili No Grande Salamence Non ci posso credere Ma poi li sto trovando Solo full art O li trovo full art No Cioè Assurdo Bello questo Salamence Cazzo Sono molto contento Questo è buono Questo Salamence Vai Continuo Potrei pensare No Di fare Anche che ne so Il deck di Salamence Vmax Vai Ragazzi Che dire Salamence Vicavolt Ho un Doom Butterfield Comunque quattro Quattro carte buone Quello ha anche Vertrix Anche Nei tematici I tematici Sono pieni di Pokemon Stellina Comunque Cioè Rally Forse mi serviva Forse mi serviva lui Vabbè Ma sicuramente no Perché il Deku Fante Chissà quando No Quest'altro Gelato Gelato Vanilux Ok Andiamo avanti Devo sbrigarmi Sto facendo un video lungo Però Non capita spesso Di Di spacchettare Una nuova espansione Il Parasolo Ancora non mi usciva Mi escono ancora Dei nuovi Pokemon Questo Pokemon È debolissimo Mi escono ancora Dei nuovi Pokemon Ho aperto ormai Tantissimi Pacchetti Ho perso il conto Ecco Questo è l'ultimo Me ne serviva Proprio quattro Perfetto Andiamo avanti Di quanto Nei ragazzi Li trovo Un'idea interessante Ma non so Se troveranno spazio Perché Devi combattere Proprio contro La tua Debolezza Se sei fuoco Che ne so Devi combattere Contro l'acqua Non è facile Vai Ancora Ah solo che C'ha La foilatura Vabbè Vabbè Non lo so Sto Serialmente Pensando Finalmente Anche questa Energia Nascosta Si chiama Energia Nascosta Quindi Non so Se finirmeli Completamente Ormai I soldi Tanto Alla fine Ah bello Questo Questa può essere Interessante Secondo me Molto utile Nel nuovo deck Tipo Stile marcia Notturna Che c'è Hydre Hydre Hydregan Questo È molto utile E niente Un altro Ambrose Si si dai Intanto alla fine Sto aprendo abbastanza In scioltezza Velocità Poi Mi serviranno Per fare De deck È inutile Che mi tengo I soldi Lì Tanto alla fine Grobat Neanche lo sto Trovando Vorrei trovare Che ne so Mi va bene Qualsiasi cosa Di questa Espansione Quindi Perché no Cioè Alla fine Tanto alla fine Che li tengo Lì I soldi Sono inutili 12.000 Coin Spesi così Penso che Li spenderò Tutti Tanto ormai Ci sto Non sto trovando Granché Mi sarei magari Fermato Qualora avessi Trovato qualcosa Ma poi comunque Nella prossima Espansione Se non Ho visto Nessuna carta Interessante Come questa Espansione qua Quindi pure la prossima Secondo me Non sarà interessante Come questa Conviene spendere Soldi Su questa Quindi questa Energia Esiste Anche Foil Ok Andiamo avanti Sto aprendo Il mondo Sto aprendo Il mondo Uno dei pacchetti Più grandi Che ho mai fatto Veramente gigante Andiamo avanti Se fossero stati I pacchetti Non scambiabili Ci avrei perso Veramente Ci avrei perso Tantissima Andiamo avanti Il nulla Il nulla E così Escono ancora Alcune Novità Novità Però la maggior parte Tutti i doppioni Ecco Altre due Novità Le stelline Ormai C'erano quasi tutti Quelli Ovviamente Vediamo un po' Niente Questo è Comunque Uno che non avevo La collezione Un altro poi La finisco Cioè Che cavolo Però senza Considerare tutte le carte rare Andiamo avanti Un altro Cioè L'ho trovato prima Lo ritrovo adesso Questa espansione Mi Non mi sta portando fortuna Ho un altro Edricon Perfetto Già con due Secondo me Posso pensare Di fare qualcosa Continua Non male Anche se dovrei trovare Quei pokemon Buk Che attaccano Niente Continua Quei Vedi Quei flygon Ne ho trovati Quello se non sbaglio Era già il terzo Già potrei fare Il deck Dalmanitan Mamma mia Rillaboom Mamma mia Rillaboom Bellissimo Rillaboom Ah Questo è un bel colpo Di fortuna Bello Questo Rillaboom Vale tantissimo Per Rillaboom Vabbè Il Rillaboom A livello di gioco Non mi cambierà molto Perché Alla fine Quel Rillaboom Normale Non costa molto Però così Oro Insomma A Rillaboom 11 pacchetti 11 pacchetti Così ma For fun Deck competitivi Per quanto riguarda il competitivo Trovo poco No Grande Finalmente Al primo Vmax Di questo Spacchettamento Faccio anche C'è anche la V piccola Quindi potrei Già Pensare Di utilizzarlo Magari Proprio con Hydregor Faccio tutto Visto che quelle Sono le carte Che mi sono uscite Lo faccio In tutto Ombra Però non si usa così Un altro Seerfetch Ok Vabbè Lo danno Finora Non mi era ancora uscito Però lo danno Nei tematici Quindi non mi interessava Minimamente Ne danno tre È un'ottima carta Seerfetch Però c'era già Nella Nella vecchia espansione Ritrovarla di nuovo Non è che poi Mi cambi molto Andiamo avanti L'energia di questo Ecco a fuoco Ormai ne ho tantissime Sette Sette Mamma mia E vabbè Andiamo avanti Allora almeno Già Salamence Risolleva un po' Le sorti Di questo pack opening Ah vedi Non l'avevo ancora trovato Blaziken Ce ne stanno di Pokémon Ce ne stanno tanti Cioè alla fine Quell'Ippopotamo Congento di vita È anche lui stellina Da quello che ho notato È questo Hoopa Ah questo è buono Hoopa è buono Hoopa è buono Un bel Pokémon Hoopa Toglio le manda Così con una carta Veramente buona Vabbè Distintivo ormai Ce ne ho Quante ne voglia Andiamo avanti Allora Non mi posso ritenere Secondo me Gran che fortunato Però Tanto ce l'avevo Questi soldi qui Tanto vale Spenderli Inizia anche il gioco A bloccarsi Grande Grande questo Grim Bello Grim 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 Snor Vabbè Comunque lui Questo si usa nel deck Con 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 Airygon Buono dai Buono buono Di solito Costa sempre di più La V maxi rispetto alla V Quindi magari potrei Comparare la mini Che anche mi piace Anche un deck che mi piace Non mi dispiace Non sarebbe male provarlo Vediamo un po' Magari adesso Appena uscita l'espansione Provare i deck Diventa un po' più complicato Perché costano Cioè Adesso Comprarti che ne so Anche Quel Grim Snor V Inizia a diventare Complicato Va bene ragazzi Allora Ho aperto Tantissimo Quindi ho finito Vedo di aprire Anche su Sull'altro account Ragazzi Eccomi tornato Apro in fretta Anche tutto quello Che ho qui Vediamo un po' Cosa trovo Questo Taurus Inutile Sta anche nei tematici Nel tematico Psico Ha voluto grande Ce l'avevo già È buono È buono Ce l'avevo già Ancora Che cosa è questo Allora Un attimo L'ultimo Ok l'ultimo Non ce li avevo scambiabili Ok Un T-Cin Vediamo un po' Chandler Ok Niente di che Vediamo questo Vediamo un po' 25 minuti di video Va lentissima l'apertura Forza Bello 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 questo script C'è almeno Un po' Tira Andiamo avanti Ok Vai Bronzong L'altro Era molto meglio C'è un bronzong Molto migliore Di quello Dammi il D-N Se mi dai il D-N Qua Questo account Secondo me È molto più fortunato Già che hai Tempi trovati Le Scemi Però anche se Sull'altro Comunque ho trovato Tapulile Quindi c'era Niente male Tapulile L'altro Quello Zacian Ho trovato Quindi Bei Pokémon Avete visto anche voi Alcuni spacchettamenti Buoni proprio Su quel Su quell'account Vediamo un po' Ecco qua Parlando di Zacian Sarebbe buono Trovarlo No? Che carta che è Zacian Ti fa pescare C'è utilissimo Lo puoi usare Anche proprio lui Come attaccante Magnifico Zacian Buoni Però Non li ho visti Non li ho visti Tanto usati La regola del team Full art Poi quando i pacchetti Sono così bloccati Trovi le peggio full art Assurdo Bello Non penso avrò mai L'occasione di usare A parte che è una carta aiuto Che non si usa L'energia cattura Questa mi piace molto Vai Questo Snorlax Che toglie 100 Però poi si addormenta Da 120 120 Con 3 carte Non è niente male Se non sbaglio Ce n'è ancora un altro Ok vediamo Ok vediamo Vediamo un po' Quasi 30 minuti di video A spacchettare Forza Niente Vediamo un po' Cosa è rimasto Niente Bene ragazzi Per oggi è tutto qui Questo account Non mi è andata male Comunque quella full art Non è niente male Sono finiti qua Sì Va bene Quella full art Non è niente male Però Un bacione Iscrivetevi al canale Commentate E al prossimo video Mettete like